A maggio del 2013, a New York, il Circo degli Amici di Bruno Gröning riceverà un onore molto speciale. Nella cappella Tillman delle NU, la Società di Preghiera Pace nel Mondo, darà a Dieter Osler, rappresentante del Circo, il Premio per la Pace, un onore conferito in passato a grandi personalità, come i premi Nobel Madre Teresa e il Dalai Lama e Papa Giovanni Paolo II. La Società di Preghiera Pace nel Mondo, o WPPS, è un'associazione non governativa delle Nazioni Unite che ha come scopo, con lo slogan, possa esserci pace sulla terra, di unire i popoli di tutti i paesi del mondo. Il premio sarà conferito dal reverendo Deborah Moldow, rappresentante NU del WPPS. Il premio è un altro momento che abbiamo chiesto di Bruno Gröning, per essere qui e essere qui, e essere qui ora in questa momento che il Secretario General Ban Ki-moon ha ha chiesto di grande transizione. Quando il corpo è un prognoste, chiamiamo il nostro corpo, sono un prognoste. Quando il nostro corpo è un prognoste, è un prognoste, è un prognoste. Quando il nostro mondo è un prognoste, è un prognoste. It's my honor to award a Peace Poll to the Friends of Bruno Gröning today. And so with gratitude for the beautiful, selfless work of the Friends of Bruno Gröning, I would like to present this Peace Poll on behalf of the World Peace Prayer Society to Dieter Heisler and Suzanne Reuss. Thank you so much. Thank you so much. I see it's a sign for Bruno Gröning and his work. And I see it's a sign for all the Friends to make, to continue his work to make peace, love, and health on earth. Thank you so very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. 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 Grazie a tutti.